Ritorna la sua integrità alla biblioteca nazionale di Napoli. Si riapre lo scalone monumentale, si inaugura la nuova sala esposizione ed è ora possibile finalmente rivisitare tutte le sale e le sezioni, comprese quelle restate chiuse per un anno a causa dei lavori di restauro, come la sezione napoletana ed il fondo aosta con la sua particolarissima sala Africa. Un solo anno è stato sufficiente al restauro e al riordino della struttura, che rischiava un pericoloso crollo ed oggi gli affreschi e le preziosità della prima biblioteca nazionale italiana sono tornati ad ospitare i visitatori e per l'occasione l'amica risanata ha esposto anche i suoi gioielli più preziosi, come i due rarissimi manoscritti purpurei, al mondo ne esistono solo altri 20 esemplari, il libro d'ore di Alfonso d'Aragona fino ai celebri ed unici papiri di Ercolano. Nella sezione manoscritti invece sono in mostra gli esemplari più famosi di Sant'Ommaso, Ariosto, Tasso, Vico, Ungaretti ed ovviamente di Giacomo Leopardi. Il Banco di Napoli fino all'8 ottobre ospita invece nella sede di Via Toledo la mostra dal risorgimento all'Italia post-unitaria attraverso orari documenti dell'Emeroteca Tucci. È un contributo alle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, fondata sulla ricchezza del patrimonio bibliografico risorgimentale dell'Emeroteca e selezionato in base all'esclusività dei testi esposti. Quotidiane, riviste, libri, manifesti, decreti ed undici lettere inedite di cui sette dello stesso Garibaldi ed ancora un rarissimo settimanale siciliano ed il periodico che Mazzini stesso diresse dopo le cinque giornate di Milano. Fra i testi, infine, troviamo anche un raro libro scritto dal medico della spedizione dei Mille, grazie al quale sembra potersi risolvere il dubbio sull'episodio del ferimento di Garibaldi confermando che avvenne ad opera dell'esercito nemico.